festeggia con hogar pon alla festa delle maschere in scarlatto e violetto crepuscolo mascherato del gioco di carte collezionabili pokemon disponibile nelle edicole nei negozi ogni busta di espansione da 10 carte venduta separatamente le carte variano a seconda delle buste il set allenatore fuori classe dell'espansione scarlatto e violetto crepuscolo mascherato e disponibile nelle edicole nei negozi